ancora buon viaggio ben trovati da firenze smart mauro ciutini traffico rallentato per un incidente sulla variante di valico tra badia e il bivio a 1 variante di valico in direzione di bologna sempre in direzione bologna personale su strada tra aglio chilometro 255 e badia ci spostiamo sulla firenze pisa livorno personale su strada per lavori tra il bivio sgc a 12 genova livorno e l'inter porto toscano est verso firenze lavori sempre sulla strada di grande comunicazione anche tra empoli est e lo svincolo di empoli direzione livorno lavori a firenze vicolo del giglio per carico e scarico di materiali da oggi 29 gennaio al 26 febbraio orario 9 30 11 30 un divieto di transito tra via delle oche a piazza del giglio è tutto grazie a regione toscana città metropolitana e comune di firenze grazie a tutti grazie a tutti